Il video Il prezzo dell'opzionalità vi ha mandati in sbattimento, andatevelo a recuperare. Fondamentalmente il concetto qual è? Più opzioni abbiamo, più opzioni utilizziamo. Se entri in un supermercato e c'è soltanto un prodotto, guarda un po', comprerai quel prodotto e dirai anche che è esattamente quello che volevi. Se invece entri in un supermercato e ci sono un milione di prodotti, non te ne andrà bene neanche uno, ti lamenterai molto di più e comprerai molti più prodotti. E l'essere umano? Cerco di spiegarvelo peggio. Da questo punto di vista ci sono un miliardo di esperimenti, ve ne cito uno. Cinema, due campioni di persone, tutti quanti possono prendere tutto il cibo che vogliono, in particolare tutti i popcorn che vogliono. L'unica differenza è che a un campione viene dato un contenitore più piccolo, a un altro campione viene dato un contenitore più grande. Attenzione, possono avere tutti i popcorn che vogliono. Guarda caso, quelli con il contenitore, il cestello più grande, mangiavano molti più popcorn di quelli che avevano il cestello più piccolo, nonostante anche quelli potessero rifornirsi quanto volevano. Perché? Perché più possibilità ci fa consumare di più. Anche da un punto emotivo. E so che questo vi sconvolge perché voi avete l'idea di essere delle persone meravigliose che trattano le emozioni in una maniera con i guanti bianchi. Non è vero! Siamo esseri umani, siamo fatti in questa maniera. Più opzioni abbiamo, più opzioni utilizziamo. Quindi le opzioni sono sbagliate? No! Sono semplicemente un megafono di ciò che siamo. Se siamo bulimici delle emozioni e abbiamo tante possibilità, lo saremo di più. Se siamo equilibrati, l'avere più opzioni non ci modificherà più di tanto come persone. Ecco perché è importante riallineare conscio inconscio. Ecco perché è importante, lo spiego nel percorso impatto profondo, fare pace con la nostra parte più profonda. Altrimenti le possibilità esterne tireranno fuori il peggio di noi. Se invece allineiamo conscio inconscio, le possibilità esterne tirano fuori il meglio di noi.